Musica Oddio non mi sento molto bene Cesaro che cosa succede? Mi vede a vomitare Aspetta aspetta tranquillo Tesoro sto malissimo credo che debba partorire Portami in ospedale ti prego subito Ok ok mi veste immediatamente Ma va bene sì Tu tesoro mettiti questo così stai più comoda Ok La bambina la lasciamo a casa Anzi no la devo portare per forza la bambina Aiuto tesoro Vieni mamma non si sente bene andiamo in ospedale Come mamma non si sente bene? Tesoro andiamo 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 veloci Ragazzi Mia moglie si è appena L'hanno appena messa in letto E adesso Gli porto la telecamera Allora lei sta tranquilla Fra un po' veniamo noi E la portiamo al piano di sotto Lei basta che ascolta e fa quello che le diciamo noi E' tutto ok Ok va bene grazie Perfetto Ciao ragazzi Questa notte mi sono sentita davvero malissima Adesso sono in ospedale Perché Nel punto di star Cioè Ok Andiamo Tesoro Noi stiamo andando al piano di sotto Voi aspettate qui Ok tesoro Ti amo Anche io Ok Eccoci Prego venga Eccoci qui Lei deve portare qui Buongiorno Tu esci che tu ti occupi degli organi Io mi occupo di farla partorire Ok Allora mi metto innanzitutto Questo Quindi metto questo qui La mascherina Perfetto Ok eccomi Mettiamo questo qui davanti Dai forza Aiuto Fa male Dai Ultima spinta Eccolo qui Perfetto E' nato Lo tenga in braccio Oddio Come sei bello Sei davvero troppo bello Figlio mio E' stupendo Si signore E' davvero bellissimo Come Come lo vuole chiamare Lui si chiama Cristian Perfetto Anche un bellissimo nome Devo dire Questa è la sua colletta Adesso le può mettere il ciuccio Perché si è accammato E lo può mettere dentro la colletta Perfetto Adesso io mi rivesto come ero vestita prima Lei prendo la carrozzina E la trasporto appena di sopra Allora io mi rimetto i miei vestiti Levo la mascherina Mi levo questo Specie di coso Ok perfetto Perfetto Qui c'è la Carrozzina La porto qui Allora questo Lei si segue qui Ok Adesso andiamo Tutte e tre Al piano di sopra Ok eccoci arrivati in ascensore E saliamo Eccoci arrivati Io ne vado Tesoro Questo è il nostro figlio Oh mio dio Ma è stupendo Ciao fratellino Come sei carino Sei bellissimo Mamma è stupendo Ti assomigliamo? Sì tesoro Ti assomigliato un sacco Dallo un po' a papà È veramente stupendo Amore ti amo Yeah sono felice Finalmente per quando cresci Avrò qualcuno con cui giocare Adesso andiamo in stanza dai Sì Allora questa è la nostra stanza Assegnata I piccoli Non lo mettiamo qua Nella culletta Nella culletta Così Ok perfetto E noi ci mettiamo qui Tesoro Levati questa cuffia Tanto ormai Lo sforzo l'hai fatto Ti tieni ancora comunque il camice Perché quello dovranno dire I dottori Quando ne vanno Ok adesso le porto qualcosa da mangiare Che avrà sicuramente fame Tutto lo sforzo Le porto pure un po' d'acqua Ne le porto un po' di succo e di frutta Per chi acqua non ne abbiamo Io lo metto dentro la tazza Ok E io lo porto Allora signorina Le ho portato un po' di mangiare E un succo di frutta da bere Allora le ho preso una pera E appunto un po' di succo di frutta Buona Buono spuntino Oh grazie mille Ne avevo proprio bisogno Ok adesso va molto Ma molto 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 meglio Signori voi se volete riposarvi La stanza delle ecografie è libera E lì c'è un letto matrimoniale Quindi se volete potete andare lì Oh sì grazie Grazie a voi Siete solo andiamoci dai Perché io sono davvero a pezzi Ti giuro Oh Allora Prima ti metti tu Poi si mette la bambina Non si può dormire in due Bene Quindi facciamo che Io rimango nella stanza Quella con Il piccolino e tu e Beatrice Dormite qua ok Va bene tesoro Grazie Niente Tanto quel lettino Eppure molto comodo Devo dire L'indomani mattina Dopo una notte Abbastanza Spericolante Ok va bene Mi genizzo le mani Le porto magari Un ghiacciolo E il solito succo di frutta Buongiorno Allora qui C'è il suo solito succo di frutta Che ieri ho visto Che lei è piaciuto tanto E questa mattina Le ho portato un ghiacciolo Che sta bevando Questo succo di frutta Io lo lascio qui Così quando state Può bere Invece per il bambino Ecco qui Oh grazie davvero tante E di che Oggi pomeriggio In teoria Potete tornare a casa Ok grazie mille A lei Questo ragazzi È il mio dottore Con lo personale E infatti è tipo Davvero bravissimo È un amore Mi tratta davvero Come se fossi Sua figlia Davvero Comunque Al suo io mi alzo E le vado a prendere qualcosa Anche per Quei due Buongiorno Io ancora Ho la pancia Un po' Molto gonfia Cosa che Mi stradizza Però Penso Si è normale Dopo il patto Verè La pancia Così Allora Prendo Un gelato A mia figlia Perché A lei Ghiaccioli Non gli piacciono E prendo Un ghiacciolo A mio marito E poi Li porto Da bere Buongiorno Amori Allora Questo per te Piccolina E questo per te Amo Tra l'altro Venite nella stanza Che io c'ho pure Il succo di frutta E ve ne bevete un sorso Entrambi Ok E un sorso Alla piccola Beatrice Pure Tieni amore Perfetto Adesso mangiate E' perfetto Ci mettiamo qua Tesoro Oggi pomeriggio Dovremmo tornare a casa Wow Tesoro Che bella notizia Non ce la facevo più Quello è scomodissimo Ok Mi metto direttamente I miei vestiti Perché fra un po' Dovremmo tornare a casa Poi prendo a Christian E gli do Un po' Di latte Ok Oh Che amore Va benissimo Così Tieno il ciccio E noi teniamo un po' In braccio Ragazzi Voi adesso potete andare Però prima dovete darmi I vostri due figli Perché Gli dobbiamo fare Un controllo generale Ad entrambi Perché se ti ricordi Asia Tu mi hai prescritto Un controllo generale Per Beatrice E poi vabbè Anche per il piccolino Appena la dosi fa Ok Va bene Tesoro Dai fai la brava E Sei tranquilla Ok Andiamo piccolini Mi porto dalla dottoressa Lei è bravissima Non mi farà male State tranquilli Ciao tesoro Quanti anni hai? Ho 5 anni Una bella signorina Mettiti qui dai Ti misuriamo Sei alta Un metro e venti Ok Va bene Non già sei molto alta Per la tua età Devo dire Adesso sediti qui Che io Ti ascolto il cuoricino Tranquilla Sei tranquilla Respira profondo Ok Bravissima Stai davvero bravissima Però non abbiamo finito Quindi Apri la bocca Per bene Ah Ok Anche la gola Molto bene Vediamo Vediamo l'orecchio Ok Anche questi Molto bene Perfetti E adesso Vediamo se ho una caramellina Da darti Ok Ho queste caramelline E ti hai tesoro Bravissima Bravissima tutta Sara Adesso vediamo Questo piccolino Quanto è bello Allora Inutile che lo misuriamo Anzi I bambini appena Ti si misurano anche E' alto E' alto 56 cm Molto lungo Questo bambino Mamma mia Gli ascoltiamo Il cuoricino Anche a lui Per bene Ok Ma anche lui Ce l'ha Perfetto Va bene Guardiamo le piccole orecchie Ma va bene Ragazzi Siete Perfetti Ok Perfetto Arrivederci Arrivederci Ok Signora Sono Perfetti Potete andare a casa Ma non ho nessun tipo di problema Ok Grazie mille Arrivederci Che ragazzi Siamo appena arrivati a casa Ma poi sta piovendo Inutile dirvelo Entriamo dentro E Andiamo Di là In cucina Perché Diciamo che Incomincio a cucinare Perché Ho davvero una fame Assurda Ancora Il piccolino Comunque Prenderà il latte Non prenderà neanche Gli omogenizzati Fino ad adesso Pasta Cosa potrei cucinare Tesoro Per me va bene Anche Pasta in bianco Anche perché Il dottore Aveva detto Che devi mangiare Molto 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 Sano In questi Cinque giorni A venire qua Ok Allora Faremo pasta In bianco Per me È il mio Amore Così Perfetto E le facciamo cucinare Ok Amore Perfetto Per quanto riguarda te Piccola Ti metto un po' Di limonata Il bicchiere Poi ti metto Anche Il tuo piattino Amato piattino Con Il L'omogenizzato Ok Tu tesoro Mangerei dopo Ti darò un po' Di latte Tanto io Ho già finito Praticamente Perché Era davvero poco Alla mia pasta Era davvero 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 Poca Ok Adesso L'hai finito Pure tu Perfetto Adesso Mettiamola Così Qua Io Mamma Vado Con Banni Ok Va bene Adesso Ragazzi Faccio Mangiare A lui E ci Vediamo Perfetto Piccolino Bravissimo Adesso Rimeto Tutte le cose Qui dentro E le lavo E nel mentre Tesoro Posa Tu Abbanni Perché Deve riposare E andiamo A riposare Un po' Tutti Quindi saliamo Al piano di sopra E andiamo A Ninna Ok Perfetto Vieni Tesoro Io ti accompagno Nella Vostra Stanza Allora Tu Piccolo Amore Ti metti Qui Fai La Ninna Io Do la culla Così A me Non si può Corgere Dal letto E tu Tesoro Ti metti Qua Buona notte A tutte Due Due Amori Mentre Noi Ti sono Tutti Metti Il tuo Pigiaama Io Mi Metto Il mio Tu Posi Il mio E ci facciamo Un bel riposino Si almeno Stiamo Nella pace Nel frattempo Ragazzi Si svegliano Di sera Poco prima Della cena Eccomi Mi sono svegliata Finalmente Mi metto Gli occhiali Tesoro È sera Svegliati Dobbiamo andare A fare la cena Eccoti Vado a svegliare I piccoli Tesoro Vieni Buongiorno Tesoro Sveglia Dai su Ciao Mamma Ciao Amore Dai piccola Lavati le manine Per bene Come ti ho insegnato Io E poi mi raggiungi Nella camera Da letto Che scegliamo Le manine Va bene Adesso Lasciugo Perfetto Mamma Eccomi Ecco Ti tesoro Bravissima Li sei lavata Bene Sì mamma Ok Allora Possiamo scendere Ok Tesori Perfetto Qui già è tutto Ronto Quindi Tutto solo Ti metti Qui Qui Il piccolino Si mette Qui E oggi Anzi Mi mettete sul divano Tutte e due Voi Così almeno Non mi disturbate A me Non mi mettete fretta Mi volta Mi volta è un continuo Avere fretta A cucinare Con voi Mamma mia Allora Incominciamo a preparare Per lei Mettiamo questo Qui Limonata Ok Va benissimo Adesso Per noi Cucino Semplicemente Un po' Di carne Arrostita Arrostita Ok Io ho fatto questi hamburger Secondo me Sono buonissimi Davvero Fatti con lattuga E Con lattuga E Punto hamburger E pane E' davvero buonissimo Tu piccolino Che fai Pimbo Adesso Vabbè Riempio i bicchieri Con dell'acqua Molto Semplicemente Così Ok E poi Vabbè Basta Ok Ci può stare E poi Vabbè Il piccolo Mangio Dopo Venite Wow Che buono E Hai visto Quando non mi fate Premura Tutte e due Mamma Ho fame Amore Ho fame Io riesco Anche a sperimentare Qualcosa di buono Ma allora Se inizierai a cucinare Così Non te ne metto più Ho fretta Meglio Tu non mi mettere fretta Che ti cuciano Te la sarei hamburger Mamma mia ragazzi I ragazzi Quando sono così Che ti cominciano a mettere fretta E ansia Sono insopportabili Comunque Io metto tutto qui E io do il latte E io do il latte al piccolo Ok Io lo riscaldo un po' Perfetto Però non troppo Perché sennò Poi si scotta E io do il latte Ok perfetto Rimettete il ciuccio Piccolino E ci andiamo a vedere Un po' di tv Tu tesoro Tienilo in braccio E te lo tieni così qui Mentre noi ci saliamo qua E ci guardiamo un po' di tv Ok Dai Vati bravi Dopo due ore Ok tesoro Dai Andiamoci a lavare Così almeno Domani mattina Non c'è bisogno Che ci laviamo E poi Andiamo a letto Ma il piccolino Ragazzi Lo possiamo già Direttamente Mettere A nanna Quindi Buonanotte Amore Mamma mia Io vedo queste cose E mi sciolgo E adesso ci laviamo Pian piano Ci laviamo tutti Allora Prima si lava Beatrice Come gli ha insegnato la mamma Allora Prima si mette il bagno schiuma Brava Beatrice Io ti guardo Perché adesso ormai è grande E si deve incominciare a lavare Anche lei da sola Poi che si fa Beatrice? Ci si insapona Bravissima Guarda quanta schiuma Bravissima Poi si fa lo shampoo Brava Cosa si fa? Si insaponano i capelli Giustamente Bravissima Poi cosa si fa? Si sciacqua Ok Perfetto Bravissima Poi cosa si fa? Ci si asciuga Per bene Bravissima Ok Poi tesoro Cos'è che fai tu? No Prima Si spazzolano Brava Ok E poi Li asciugo Brava Brava tesoro Le asciugo E poi Mi lavo i denti Bravissima Amore Sei davvero brava Metto il dentifricio Poi Lo rimetto nella mensola Se ci riesco Perché non ci riesco Ok Mi sono fatta aiutare Da papà Perché non ci arrivavo E poi Accendo lo spazzolino E mi lavo i denti Per bene Bravissima Ne sono Poi Lo spengo E Lo poso E mi sciacqua La bocca Puh Poi faccio La pipì Mi asciugo E Scarico L'acqua Ok E poi basta Ho finito Benissimo Adesso ragazzi Ci laviamo Anche noi E Ci vediamo dopo Dai Ciao Ci vediamo dopo Quella siamo tutti lavati Ok Io vado in camera mia A giocare Ok ragazzi Noi ci siamo fatti La nostra doccia Adesso Ci laviamo i denti Così Così Per bene Ok Ok Poi Spegniamo Gli spazzolini E lì Posiamo Per bene E ci sciaccomo la bocca Ok Perfetto Adesso ci rimettiamo i nostri vestiti E qui Niente ragazzi Vi ricordo di iscrivervi al canale Lasciare un like E lasciare un commento Tappare la campanella Per farvi arrivare tutte le notifiche Quando pubblico un video E niente Ciao ciao Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti.